Con il decreto del governo che ha congelato le attività didattiche fino al 15 marzo, in molti istituti i docenti, assieme agli alunni, si sono organizzati per le lezioni a distanza, strutturandosi in vari modi. Anche negli istituti fanesi si è stata avviata questa metodica, come al Polo 3, da tempo all'avanguardia su questo fronte. Ci tengo a dire che il corpo docente in generale non è impreparato. Certo, siamo tutti impreparati ad una situazione di emergenza, è chiaro, però l'utilizzo, le competenze ci sono e in alcuni casi sono elevatissime. Non solo qui al Polo, che per tradizione ormai da tantissimi anni aveva attivato la piattaforma G Suite, il Classroom e quant'altro, ma in generale, direi, nella scuola. Poi, chiaramente, nelle scuole di ordine superiore siamo più avvantaggiati perché dialoghiamo direttamente con i ragazzi nelle scuole del primo grado. Tutto questo deve passare magari attraverso le famiglie, però diciamo che può essere un modo per gestire un'emergenza alla quale nessuno aveva mai pensato. Studenti da una parte, alunni anche attraverso il proprio telefonino o comodamente nella stanza di casa, interagiscono con i docenti che, o in istituto o anche a casa propria, realizzano lezioni collettive. Dal 2016, in maniera continua, la scuola, tutto il Polo 3, usufruisce di una suite di Google che permette di poter fornire ad ogni docente, ad ogni personale ata, quindi tecnici, collaboratori scolastici, eccetera, e tutti gli allunni di avere un account, polo3.org appunto. Quindi diciamo che ci siamo trovati non male in questa situazione. Perché? Perché abbiamo utilizzato il discorso delle aule virtuali, cioè della possibilità di studiare, di impartire lezioni a distanza, e quindi compiti, eccetera, non solo con il registro elettronico, come avviene in tutte le scuole d'Italia, ma anche appunto con il discorso dell'aula virtuale, che permette un grande ventaglio di possibilità di condivisione, di poter seguire in maniera puntuale, anche fuori dagli orari scolastici, antimeridiani, tutti gli allunni a seconda delle loro esigenze.